Ciao a tutti dal Salutatore, grandissima sorpresa, eccomi con un grandissimo tenore, Maurizio Galleni Ecco qui per voi, direttamente da L'Oasi Park, chi vuoi salutare? Allora, voglio salutare tutti i miei amici di Facebook e anche i miei amici da Pisa e poi un particolare saluto anche alla Conza perché mi ha dato questa possibilità di essere qui, grazie davvero Noi ringraziamo te e ricordiamo i tuoi siti dove ti trovano tutti quanti? Allora, il sito è www.mauriziogalleni.it e poi pagina Facebook è Maurizio Galleni Io ti ringrazio, una piccola anticipazione ce la dai a chi ci segue? Allora, a gennaio uscirà il mio singolo, non svelo che brano sarà, comunque potrete trovarlo su Youtube e sui vari canali musicali Grande scupe, ti ringrazio Maurizio, un saluto a tutti i tuoi fans e tutti i web, Youtube, Facebook e Twitter Ciao